Il tuo consulente grometico ti dà il benvenuto su Angra Notizie. Il tempo previsto tra il 30 luglio e l'8 di agosto. Tre novità di rilievo. Prosegue l'ondata di caldo intensa portata dall'anticicolo nel nordafricano che raggiungerà l'ampice con l'ondata di caldo tra il 31 di luglio e il 1 di agosto. Fine del caldo a partire dal 3 agosto e questa fase di refrigerio durerà all'incirca fino al 5 di agosto. Poi intorno al 6, tra il 6 e l'8 di agosto, ritorna probabilmente per una breve comparsa l'anticicolone nordafricano. Allora cominciamo alla prima fase tra il 30 luglio e il 2 agosto. Un'ondata di caldo, abbiamo detto che raggiungerà l'ampice tra il 31 e l'1. Bel tempo, rovesci e temporali, però a partire dal pomeriggio sera del 2 agosto per l'avanguardia di una perturbazione atlantica. Tra il 3 e il 5 di agosto, seconda fase, arrivano le fresche e temporalesche correnti atlantiche con rovesci e temporali diffusi su gran parte del centro-nord e regioni adriatiche, rovesci e temporali che tra il 3 e il 4 potrebbero essere di forte intensità sulle regioni di nord-est. Terza fase, tra il 6 e l'8 di agosto, una fugace ricomparsa dell'anticicolone nordafricano, quindi di nuovo un'ondata di caldo, ma un'ondata di caldo più breve e meno intensa di quella che stiamo attualmente vivendo. Un sguardo alle temperature, tutte le temperature previste in queste tre periodi sono state per semplicità di consultazione riassunte in questo quadro, perché altrimenti l'esposizione del temperature mi avrebbe richiesto qualche 3 o 4 minuti. Bene, termino qui. Un caro saluto ancora da Mario Giuliacci. Dal pulsante sottostante puoi visualizzare le previsioni di casa tua.